Buongiorno a tutti, a tutti voi da Tiziano Manipasta Siamo tornati a fare panificazioni, come al solito voi sapete che io adoro panificare e quindi per me è vita panificare Che facciamo oggi? Facciamo i panini all'olio con pasta madre Se volete la ricetta con lievito di birra la trovate nella playlist e sapete che le ho fatti già l'anno scorso Allora vi dico tutti gli ingredienti per fare i panini all'olio con pasta madre Guardate Qua abbiamo 250 grammi di manitoba mischiata con 250 grammi di farina zero 250 grammi di acqua tiepida 100 grammi di pasta madre rinfrescata e raddoppiata 80 grammi di olio di oliva 15 grammi di sale E un cucchiaino di miele Allora, prima di tutto facciamo una cosa Andiamo a mettere il miele nell'acqua Ora mettiamo l'olio E andiamo a mescolare Bene bene così affinché il miele si sciolga con l'olio e con l'acqua tiepida Ora facciamo il buco al centro alla nostra farina già mischiata Prendiamo la nostra pasta madre Perché come vedete guardate che spettacolo della natura dico io Andiamo a fare a pezzettini La dividiamo, la facciamo a pezzettini e la mettiamo al centro E ora pian piano non tutto il liquido Mettiamo metà del liquido E cominciamo a sciogliere la nostra pasta madre Poi aggiungiamo l'altro Quando vediamo che già si sta addensando la nostra pasta Perché man mano sto prendendo la farina Vedete? Quindi nel frattempo amalgamiamo tutti gli ingredienti Aggiungiamo il resto del liquido Tutto quanto Mi raccomando fate questo movimento Scegherate così tutti i liquidi Non vanno a perdersi nella brocca Quindi andiamo ad impastare A questo punto possiamo anche mettere il sale Mettiamo il sale Ed impastiamo adesso Impastiamo proprio tutto Ora versiamo l'impasto sul piano di lavoro E continuiamo ad impastare Affinché non vediamo un bel risultato Un composto bello liscio e omogene E guardate che bella pasta che è venuta Bella, bellissima Allora adesso io vado ad oleare un po' la ciotola Dove c'era la farina La vado a oleare tutta E adesso mi vado a creare qualche piega in questo modo Mi olio un po' le mani Con l'olio d'oliva E vado ad allungere la nostra pasta La metto qua dentro E vado a fare un giro di piega Così Tiriamo la nostra pasta Facciamo un giro di piega Così Facciamo tutto il giro Ed ecco qua Ora La nostra pasta la mettiamo In forno spento con lucina accesa A riposare E a raddoppiare naturalmente Quindi copriamo con pellicola Come al solito Come dico sempre Se ci riesco Allora Quando uso questa ciotola Ho sempre il problema Che non si appiccica subito la pellicola Tanto poi me la sistemo Ogni volta dico così Me la sistemo dopo Me la sistemo dopo Va bene Ok Allora Portiamo il forno spento con lucina accesa Fino a raddoppio E poi dovremo fare le pieghe Però ve lo dico dopo A dopo Che spettacolo Guardate No una meraviglia Scusate se sentite i lavori E i rumori Ci sono dei lavori sopra Lavori in corso di legna Allora Mi sono unte le mani di olio Adesso andiamo a fare Il giro di pieghe Come abbiamo fatto prima Però vedete Guardate che pasta fantastica Già Bellissima Mi raccomando Delicatamente Fate il giro Guardate la bolla Guardate la bolla Che bella Adesso Che facciamo Che facciamo Sentite i rumori Questo è il mio suocero Allora Siccome sta arrivando la legna Perché noi ci procuriamo La legna E diciamo Quasi in estate Per l'inverno Per stare tranquilli Il mio suocero Già sta sistemando tutto Perché dobbiamo Poi abbiamo un monte carichi Fariamo la legna E siamo tranquilli Perché Sapete Io adoro il cammino Detto questo Adesso Io vado a mettere La pellicola Nuovamente Intanto Si sente un casino E vado a mettere Il forno spento Con l'ugina accesa Questo lavoro Della piega Lo dovremmo ripetere Tre volte Quindi ce ne mancano Altre due Ci vediamo Alla seconda piega Poi ci rivedremo Di nuovo Alla seconda Quindi ci vediamo dopo Facciamo la seconda piega Ricordo che Si fa ogni mezz'ora Quindi ogni 30 minuti Dobbiamo fare Prima la prima La seconda E poi la terza Nell'arco di un'ora e mezza Come vedete Guardate la bolla Che bello Che spettacolo Allora Delicatamente La prendete così E fate un altro Giro di pieghe Ok Adesso Andiamo a coprire E rimettiamo nuovamente Il forno spento Con l'ugina accesa E aspettiamo un'altra mezz'ora E poi andiamo alla terza piega Terza e ultima piega Poi andremo a perlare I nostri panini all'olio A dopo Arrivate alla terza e ultima piega Ora prendiamo delicatamente L'impasto Mi raccomando Delicatamente Perché è pieno di bollicine E ora che facciamo Guardate che spettacolo Una nuvola Cerchiamo di allargarlo un po' E dividiamo in tanti piccoli pezzi Per la grandezza Guardate Quando stringo la pasta Guardate Guardate Allora Dobbiamo dividere Magari facciamo una cosa Ci oleiamo poco poco le mani Così andiamo sempre più comodi Allora Dividiamo l'impasto In tanti piccoli pezzi Per la grandezza Che noi vogliamo Dei panini Ora prendiamo Un pezzetto E lo andiamo a perlare Perlare intendo così Delicatamente Però mi raccomando Che ci sono gli alveoli Vedete Perlare in questo modo Che poi sono delle pieghe Quando fate questi lavori Sono delle piccole pieghe Perché sono dei panetti piccoli piccoli Ecco Vedete La chiusura Deve stare così In questo modo Ecco L'andate ad adagiare Sulla placca Con carta forno E come abbiamo fatto con questo Facciamo con tutti gli altri Ok Guardate Adesso Aspettiamo Due ore Un paio d'ore Dobbiamo aspettare Fino al raddoppio Nuovamente Lo mettiamo in forno spento Veloce in accesa Quindi ci vediamo dopo Perché vi faccio vedere Come sono lievitati Perché questa è la seconda lievitazione E poi rinforneremo Quindi ci vediamo dopo I nostri panini Guardate come sono lievitati Ne ho fatto qualcuno più piccolo Proprio per radice Perché magari se lo porta a scuola Ed è più piccolino Allora Io adesso Vado a infornare In forno preriscaldato A 200 gradi Ventilato Parte alta del forno Mi raccomando Però Per 20 minuti Ma Riforno A sé Va bene Ci vediamo dopo Allo stagio Ciao a tutti Guardate che spettacolo della natura Quando si dice veramente spettacolo Cioè io vorrei che vedeste La sofficità No E per me è un orgoglio Grandissimo Guardate Guardate che spettacolo E che dire Io ne devo tagliare uno No lo apro così Lo apro così Che vorrei che vedeste L'interno L'interno Guardate È uno spettacolo Uno spettacolo Allora Sono morbidi Nuvole Sono nuvole queste Allora Naturalmente io Questo Me lo sono Un po' farcito Ma un pochettino Non molto Dentro naturalmente Ci sono miei adorati Peperoncini Prima di fare l'assaggio Volevo dirvi una cosa Io penso che Molti di voi Lo sanno Che ogni tanto Lo dico io Nei video Quando infornate Sia che sia Quando facciamo il pane croccante No Assolutamente no Non vale per questo Però Se voi volete Avere una panificazione Molto molto morbida E questo vale Sia per il dolce Sia per il salato Che dovete fare Una volta Cotte Tutte le panificazioni Che noi facciamo Uscite dal forno Mettete un canovaccio O una tovaglia sopra E lasciatelo Lasciatelo raffreddare Con la tovaglia sopra Vedete La consistenza La morbidezza Queste cose Me le insegnate mia nonna Tenete conto Ne faccio tesoro Perché ogni volta Faccio questa cosa Guardate 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 Che bella Sono soddisfatta Cioè da pensare Che questo L'ho aperto Con le mani E guardate Si vedono i buchi Degli alveoli Vedete È stato proprio Un taglio Astratto Questa Allora Allora Chi c'è qua Qua c'è Angela Annesano Qua c'è Felice Buongiorno E poi dietro Ci sono tutti gli altri Però mi raccomando Fate il turno Perché Ogni tanto Fate Fate passare qualcuno Accanto a me Naturalmente Dentro ci ho messo Il mio Adorato Pebroncino Buono Buono Celorina Questa qua Che è entusiasta Vero Si è vero Ha detto Mamma Fai sempre di questi Mi piacciono molto Perché sono morbidi Cioè dice Che mi ha detto Mamma Mi raccomando Alle mie maestre Adoro Le maestre In ogni cosa che faccio Le piace portarle Perché È orgogliosa di me E allora Quando faccio le cose Che le piacciono Le piace Le deve portarle Ok Grazie a tutti Veramente Di cuore Io Stavo sentendo un rumore Stavo Io Devo Veramente Ringrazzarvi Di tutto E vi auguro Una buonissima giornata E ci vediamo domani Con la prossima Videoricetta Ciao a tutti Adiziano male in pasta